C'è un sogno chiamato a semifinale Scudetto dietro l'angolo e ci sono due squadre che finora hanno disputato una stagione da record regalando tante emozioni ma che ora non vogliono fermarsi una andrà avanti l'altra andrà a casa Ricezione di Giavorono, Corduna per Galassi Giavorono, che fulmine in parallela a Abuba 21-18 Cerizzo alle spalle, poi sai tagli dietro per Abuba Diagonale stretta, balla out Davvero Limpunza, avanti 1-0 Eeees Questo Nes che fa malissimo a chi lo subisce e benissimo a chi lo mette a segno in questo caso Abuba tra me, Neto La portata di Rossara, poi salva in qualche maniera a Federici ma non riesce a renderla giocabile Ace per Rossara Lanza, poi Orduna per Davi Schiva La balla è out Finisce qua il secondo set se lo giudica vivo Vito in alto la ricezione di Orduna poi Federici imbaga la ferra Lanza La porta ricevuta a Federici Orduna appoggia per Galassi Assegna ancora Galassi Vedremo subito Lanza la gran ricezione Orduna all'indietro per la buccia Punta la buccia 25-42 Poi De Falco Una gran palla che cade alle spalle del muro senza copertura Rossara non passa allora la risposta di Lanza che prova a insaccare C'è De Falco alle spalle del muro Saita d'altra parte per Rossara Mani out per Rossara 13-10 vivo La difesa di Federici rende giocabile la palla Sarat e Breck all'arena di Monza Giavorono, Corduna per Lanza Diagonale strettissima Pitta poi De Falco a tutto braccio Ancora lo statunitense Pitta poi La copertura di Beretta dopo il muro, Federici, la Guccia, con la terra che si la Guccia. Big ball, no, nel momento più importante. Saita, vada, Buga, Murato c'è, la copertura di Orduna e la Guccia. Monson essere finale, la Guccia, la Guccia, la Guccia, e sta nella rena di Monson. Monson essere finale, semifinale studenti.